Un po' vediamo però la situazione invece sulla rete autostradale della nostra regione. Buongiorno ad Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sì, Mariangela, buongiorno. Buon inizio di settimana. Lunedì 13 dicembre, caratterizzato da flussi veicolari vivaci sulle strade della nostra regione per i consueti trasferimenti pendolari del mattino dovuti alla ripresa delle attività lavorative scolastiche dopo il weekend. Ma abbiamo già delle code per programmati lavori di manutenzione e ammodernamento sulla 26 la Genova Gravelona-Toce al momento quantificata in 3 chilometri tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova-Voltri. Abbiamo anche delle code sulla 7 tra Genova-Bolsaneto e Bivio della 10 e su quest'ultima tra Genova-Aeroporto e Bivio della 7 e sulla 12 al momento un chilometro di code tra Rapallo e Recco. Sempre nelle piano di ammodernamento e manutenzione di autostrade per l'Italia c'è una stima dei tempi di percorrenza molto superiore alla norma da Bollino-Rosso che vediamo con l'ausilio della grafica in A7 dalle 10 alle 13 in entrambe le direzioni in A10 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 in entrambe le direzioni sulla 12 dalle 10 alle 13 in entrambe le direzioni e dalle 16 alle 19 in direzione Sestri-Levante ma anche sulla 26 non solo questa mattina ma anche dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 in direzione Genova-Voltri. Comunque per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.autostrade.it nella sezione dedicata alle autostrade Liguri. Mi fermo qui, buon inizio di settimana, linea allo studio. Grazie a Rai Mobilità anche noi ci muoviamo direzioni.